Questi ragazzi rimarranno chiusi a chiave in questa piccola stanza per un mese, con il permesso di mangiare solo pane, fiocchi di avena e cipolle. Sono alcuni dei trattamenti radicali e controversi usati da un centro privato di disintossicazione dalla droga a Ekaterinburg, in Russia. I dirigenti sono convinti che solo questo metodo shock possa liberare i ragazzi dalla droga, un problema che in Russia provoca 100.000 morti ogni anno e colpisce soprattutto i giovani fra i 15 e i 30 anni. Nella mia classe si drogavano tutti, racconta una ex tossicomene, ospite del centro. Io sniffavo ma i miei amici mi dicevano che bucarsi era meglio e così che ho iniziato con l'eroina. Secondo il direttore, Evgeni Rotzman, la tossicodipendenza è un problema sottovalutato dalle istituzioni che chiudono gli occhi di fronte al dramma dei giovani. Quando diciamo alle autorità che la droga viene venduta ad ogni angolo di strada e di ragazzi muoiono, ci rispondono semplicemente che accade in tutto il mondo.